E con una proposta di essenziali strumenti di rilancio territoriale che si sono incontrati ieri circa 50 associati dell'Associazione Operatori Turistici Agropoli, portale turistico online, narratore culturale, eventi destagionalizzati, queste alcune delle proposte progettuali che saranno presentate al Comune di Agropoli per un contributo finanziario che ne consenta la realizzazione. La OTA mette a disposizione capacità e competenze dei propri associati che vantano esperienze nel settore e capacità gestionali, ma chiede, in un'ottica di partnership con l'amministrazione, una partecipazione finanziaria indispensabile alla realizzazione di tale progettualità che consenta di mettere a sistema le competenze diffuse patrimonio del nostro territorio. In tale ottica invita l'amministrazione comunale a rendere trasparenti i criteri di assegnazione dei finanziamenti attraverso l'emanazione di un bando e la compilazione di una graduatoria delle proposte pervenute. Ribadendo, il proprio ruolo propositivo rinnova la richiesta di un incontro con l'amministrazione al fine di una condivisa ottimizzazione delle risorse derivanti dalla tassa di soggiorno versata al termine della scorsa stagione turistica. L'associazione da circa un decennio attiva nel qualificare l'offerta turistico ricettiva e all'opera per la definizione di un progetto ampio e articolato, volto alla promozione dell'offerta turistica, al raggiungimento di nuovi target e alla destagionalizzazione delle presenze. Il settore turistico è un settore trainante per l'economia del territorio, ma necessita di azioni coordinate e di un soggetto forte e coeso in grado di dialogare con gli attori istituzionali, al fine di creare quelle condizioni di crescita tanto necessarie ad un territorio che vede buona parte del proprio potenziale di sviluppo ancora inespresso. L'associazione operatori turistici Agropoli è pronta ad assumere tale ruolo e chiede a tutti gli operatori del settore di associarsi al fine di essere parte di un unico forte soggetto di promozione e di crescita territoriale.